Buaci per l'attacco e l'ex lancianese l'anno scorso al Bologna, Marcel Buchel per il centrocampo. Sono questi gli obiettivi di mercato del Pescara dopo l'ultimo incontro che si è tenuto fra i dirigenti Biancazzuri ed il tecnico Massimo Oddo. Resta la priorità di sfoltire l'organico, Memushai partirà solo per la Serie A, con l'Empoli pronto ad offrire non più di 600.000 euro. Intanto il Pescara ha trovato la sua nuova stella e il figlio d'arte ex Verona, Mattia Valoti. Sono contento soprattutto per la prestazione e per il fatto che siamo passati questo turno che era molto importante. La prima qua su questo pubblico qui, quindi è troppo importante vincere queste partite. Poi la squadra ha fatto una bella partita e stiamo iniziando un po' a girare un po' il modulo che voleva il mister, a cercare anche i movimenti che dice lui. Quindi sono contento, sono contento della mia prestazione ma soprattutto della squadra che iniziamo a dire la nostra. È il mio ruolo che credo riesco a fare meglio. Poi ho fatto la mezzala, l'anno scorso soprattutto a Verona, facendo un modulo diverso, ho fatto mezzala o anche esterno alto. Comunque il mister mi ha voluto qua come trequartista e quindi io voglio dimostrare di poterlo fare e di saperlo fare. Mattia, qualcuno dice che questo Pescara è già un Pescara Valoti dipendente. Sono contento di oggi ma soprattutto devo dire grazie ai miei compagni che soprattutto alle due punte che hanno fatto un lavoro sporco oggi, che mi hanno anche predisposto a fare una bella partita perché da apprezzare Vukusic che comunque ha dato tutto, ha lottato tutti i palloni e comunque la mia prestazione è dovuta anche a loro. Un gol, una traversa, meglio dico sì, era difficile fare questa sera, però questo è solo l'inizio. Sì, sì, dai. Sono contento, sono contento. Ora non bisogna mollare, bisogna andare a Torino consapevoli di poter fare la nostra partita. Poi sappiamo che è un avversario difficile, un avversario tosto di Serie A, però abbiamo i mezzi comunque per giocarcela. Quindi dobbiamo essere convinti di poter dire la nostra e arrivare alla prima di campionato ancora meglio rispetto ad oggi.